Siamo alla spiaggia di Provatas e questa qui è quella del Golden Beach Middles, se non sbaglio il nome del posto. Non si può vedere se si può mettere una fumiglia. La spiaggia non è proprio questa. La spiaggia non è stata un'altra. 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 Poi già qua, dove c'è il ristorante dove l'abbiamo mangiato, ma ora sarà un po' più su, perché dove l'abbiamo mangiato il ristorante l'altro giorno, la città delle persone, c'è un'altra spiaggia. Per andare a vedere qua l'altra. Sì, andare a vedere l'altra. Qui c'è il ristorante dove l'abbiamo mangiato l'altra sera. E l'altra. Allora, qui c'è la taverna Maestrani, e qui c'è la strada che porta una spiaggia sottostante, spiaggia di sabbia. Noi abbiamo l'alloggio con la costruzione là, che è quella dei Burgas Studios. E qua siamo a Provatas. Provatas finisce di là di quel promontorio, però non ci sembrava sto granché. Vedete i promontori di Provatas con le rocce colorate, forse gialle. Questa mi sembra un po' meglio come spiaggia. Poi andremo a vedere se di là del promontorio ce n'è un'altra. Qualche ombrellone. E anche lì qua qualche ombrellone. Che dici? Questa è un po' meglio. Andiamo a vedere qua, in questa baia di Provatas. Com'è? Anche da qui, oltre a questi scogli, si riesco a vedere dove ci dovrebbe essere la spiaggia sotto l'alloggi. Dove siamo? A dimora. Questa parte sembrano tutti i scogli. C'è la spiaggettina anche lì dietro. Poi da sotto. Poi da sotto. Poi da sotto. Questa parte sembrano tutti i scogli. Grazie a tutti